Questa è la recensione del nuovo microfono Tonor che mi sono comprato pagato 17 euro, incluse 4 euro di spese di spedizione un Tonor microfono a condensatore con 20 decibel di guadagno sembra che la registrazione sia molto buona perlomeno decisamente superiore al troiaio che avevo prima che potete trovare nella playlist delle recensioni è un bel microfonino piccolino, leggero e si utilizza in modo molto intuitivo c'è anche un bel filtro anti sputazzi con 20 decibel di guadagno praticamente la registrazione viene pulita e non serve nemmeno andare a preamplificarla nelle impostazioni della scheda audio io ho settato già la ripulitura automatica del rumore andando a selezionare l'ambiente grazie all'ASUS quindi direi che è un acquisto che è veramente consigliato a tutti quelli che vogliono lanciare nel ruzzino nuovo del podcasting un saluto, ciao